Dal prossimo metà giugno inizieremo con il servizio dell'Etna Trasporti. Si è parlato anche di una novità assoluta che è quella dell'utilizzo della nuova stazione dei bus che a breve sarà pronta. Parliamo di quella stazione che è nata al di qua del giardino dello Scalo Merci. Oggi sono andato con quelli dell'Asta a vedere la situazione e devo dire che sta venendo fuori un bel lavoro. Queste sono le pensiline altissime. Mi dicono che sono così alte perché quando chi le annuma le motore bisogna avere il tetto alto per fare in modo che i fumi non fanno occupare le persone. Poi qua ci sono le zone per i passeggeri, la biglietteria, sotto c'è il ristorante. Si tratta di un lavoro certamente buono che arricchirà questa città di un servizio che ben poche città possono avere perché non è che tutte si possono permettere una stazione dei bus come quella che stiamo vedendo noi. Quindi soddisfazione anche da parte di quelli dell'Etna Trasporti che hanno detto va bene ora noi qua come si dice ci stiamo proprio precisi perché ci sarà biglietteria, pubblico, bagni, ristoranti insomma tutto quello che serve ed è un'ottima cosa. Questo è il lato positivo. Poi come sempre a Cana c'è sempre un po' di lato negativo perché come ogni venerdì noi abbiamo, non ce ne possiamo trattenere le cose, abbiamo il nostro ospite in studio. Vediamo.